Sono stati il sindaco Luigi De Magistris ed il cardinale Crescenzio Sepe ad inaugurare il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo. La manifestazione si svolge sul lungomare pedonalizzato dove turisti e napoletani potranno approfittare dei 3.000 posti a sedere nei quali 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di servire fino a domenica 9 oltre 75.000 pizze. Oltre alle pizze per 5 giorni sul palco centrale montato all'incrocio tra via Caracciolo e via Ledorn si alterneranno musica e cabaret. Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa infatti solo 10 euro acquistare il menù completo che comprende una pizza, una bevanda, un gelato ed un caffè, un succo di frutta alle 20 casse distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli Pizza Village. Ospiti del villaggio saranno le famiglie emiliane vittime del recente terremoto che in questi giorni sono ospitate dall'amministrazione comunale per una settimana di vacanza nella nostra città. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.pizzavillage.it